Eccomi, eccomi, buonasera amici e amiche rossoneri ragazzuoli belli, vi metto subito agitazione ore 18.47, buon giovedì 3 febbraio 2022, vi metto subito agitazione, parto razzo ragazzi. Ha parlato la gente di Sven Butman, diciamo che le sue parole mettono qualcosa di un po' sibillino, ma vedremo come andrà a finire. Io ho imparato nella mia vita di non stupirmi più di niente, sappiamo tutti che il Newcastle offre molto di più del Milan, offre 40 milioni di euro per il cartellino di Sven Butman più i bonus, però ovviamente si sta parlando di una squadra che si sta formando piano piano con il potere del petrol dollaro dell'Arabia Saudita. Però non è scontata questa cosa, cosa dice l'agente Sven Butman? Ad esempio il mio assistito dopo il prestito all'Evernen, vabbè è una squadra olandese penso, per molti sarebbe stato comodo e logico tornare all'Ajax, invece Sven decise di andare al Lille, poteva essere un rischio ma Sven è questo, non ha paura di osare. Sono sicuro che in estate, perché ovviamente l'Ajax è più prestigioso del Lille, sono sicuro che in estate prenderà la decisione giusta. Milan e Newcastle sono due grandi squadre, ecco questa è una cavolata, Newcastle non è una grande squadra come mia. Non bisogna commettere l'errore di pensare che il Newcastle possa essere solo una scelta economica. E qui praticamente mette un dubbio l'agente di Butman, perché dice non bisogna commettere l'errore di pensare che il Newcastle possa essere solo una scelta economica. Sta nascendo un bel progetto. attenzione, attenzione, con questo non vuol dire che lui ha già scelto Newcastle. Ma anche il Milan è un club molto prestigioso. Allora, diciamo ragazzi che questa è la mia scaletta che ho preparato. Queste parole potrebbero, tra virgolette, raggelare un po' i nostri facci di entusiasmi su Sven Butman. La notizia ve la devo riportare perché è di pochi minuti fa. Sì, con questo vuol dire tutto o nulla, però da come parla la gente sembra che lui possa, Sven Butman, possa decidere di andare al Newcastle perché gli piace il progetto. Allora, io vi dico subito, se dovesse succedere questa cosa vada pure al Newcastle, a me non interessa niente. Nel senso, ne prenderemo atto e chi se ne frega. Il Milan comunque il piede in due scarpe ce l'ha, anzi in tre scarpe ce l'ha. Perché oltre a Butman c'è anche Bremer, anche se sembra che l'Inter sia forte su Bremer. E poi c'è anche un altro difensore su cui noi siamo. Però con queste mie parole non vuol dire che la gente di Sven Butman abbia detto che lui andrà al Newcastle. Perché giustamente lui dice, non bisogna commettere l'erroi di pensare che il Newcastle possa essere solo un progetto, cioè può essere solo una scelta economica. Perché quando uno dice una roba del genere vuol dire che praticamente, allora lui non pensa i soldi ma va al Newcastle per il progetto. Perché sta nascendo un bel progetto. Sì, poi questo bel progetto dove andrà a finire non si sa. Farà la fine del Paris Saint-Germain e del Manchester City. Ma è una Champions League in tutta la sua storia. Questo ve lo firmo già. Ma anche il Milan è un club molto prestigioso. Però ha menzionato il Milan. Ma anche il Milan è un club molto prestigioso. Allora, se volete la mia idea, io adesso quello che vi dico è quello che realmente penso. Sì, mette agitazione questa intervista della gente di Sven Butman. Però ha voluto mischiare le carte. Ha un attimo voluto far capire. Guardate che il mio assistito se decide di andare al Newcastle non va per i soldi. Ma in realtà non è così. Ma in realtà non è così. Il suo assistito praticamente potrebbe scegliere quale cosa? Un progetto. Un progetto vero. Anche se lui ha detto che sta nascendo un bel progetto. Ma il Milan è un club molto prestigioso. Che è diverso. Che è diverso. Che è diverso. Che dire che il Newcastle è molto prestigioso. Perché non lo è. Lui l'ha detto solo per convenienza. Sono due grandi squadre. Ma non è prestigioso il Newcastle. Butman stesso dalle sue parole ha detto che il Milan è un club molto prestigioso. Hanno ripetuto le stesse parole. Questa intervista io so già che vi fa andare fuori di testa. Io vi ho dato la mia spiegazione. Ragazzi vi voglio ricordare. Partiamo a Razzo. Per l'ennesima volta. Noi sabato giochiamo alle 18. Ci vedremo con la video reaction dopo la partita. Entro le 20 e 30. E poi dopo le 20 e 30. Spero di festeggiare con pizza e birra. Speriamo in bene signore. Speriamo. Signore Buddha. Tutto quello che cavolo volete. Non c'è nessun problema ragazzi. Perché io spero di festeggiare. Ti prego. Ti prego. Spero di festeggiare. Spero di festeggiare. Pizza e birra subito. Per festeggiare in tre secondi. Però ragazzi una cosa la devo dire. voglio porvi un quesito. Una riflessione estemporanea. Poi il video è finito. Vi voglio ricordare che Gazzidis, il nostro amministratore delegato, lui è nel mondo del calcio dal 1994. Vabbè adesso non vi sto spiegando la sua storia. Ma è stato uno dei creatori della MLS. Cioè la Lega di Calcio negli Stati Uniti. E praticamente lui ha detto io ho contribuito nell'intervista che ha fatto ieri da Dubai. Ho contribuito a creare un calcio negli Stati Uniti sostenibile. Quello che poi adesso lui vuol fare con il Milan. E che sta già facendo con il Milan. Poi nel 2009 è andato all'Arsenal. Affiancando Arsenal e Wenger. Nel nuovo stadio. Cioè l'Emirates Stadium. Poi tre anni fa lui ha detto io sono stato ingaggiato da Elliot per venire al Milan. In questa avventura di un club che è andato in difficoltà. Allora ragazzi. Ieri vi ho parlato di quanti tifosi noi abbiamo nel Nord Africa e Medio Oriente. Giusto? Ve l'ho detto. Da questo inizio stagione 2021-2022 abbiamo incassato 7 milioni e 200 mila euro solo perché le popolazioni di tifosi rossoneri nordafricani e medio orientali hanno visto il Milan in tv. Ed è questa una cosa molto molto importante. Grazi di setto testuali parole. È un brand globale il Milan con milioni di tifosi in difficoltà ma che ero convinto avesse le possibilità di tornare ad alti livelli. Ho lavorato sugli aspetti della Lega e del club. Ho compreso nuove culture e un nuovo ambiente. Partendo dalla MLS alla Premier League il miglior torneo attualmente. L'Italia era il top 20 anni fa dice Gazzidis e ha grandi possibilità e potenziale per tornare ai livelli di prima. Bene. E fin qui nulla di strano. Però vi voglio ricordare chi mi segue su Instagram lo sa ma ripeto su Instagram non accetto più amicizie. Mi dispiace ragazzi. Perché non mi va che certi tifosi vengano io sono guardate ve lo dico sinceramente ultimamente sono un po' arrabbiato con alcuni di voi. Non mi danno fastidio le polemiche degli ultimi tempi contro il calciomercato che ha fatto il Milan. Cioè è comprensibile la delusione ma le accuse nei confronti di Elliot e di tutto il resto non le comprendo. Non le comprendo non le comprenderò mai. Fate quello che volete dite quello che volete. Basta che nel mio canale qui sotto quando commentate mantenete dei toni. Perché sennò siete bannati in tre secondi. No. Un secondo. No. Perché questo lo devo dire. Scrivete quello che cacchio volete. Non me ne frega niente. È il vostro parere. Sfogatevi. Se non vi sfogate sotto questo video sfogatevi. Tirando una testata al muro non c'è problema. Però ricordatevi di mantenere un certo tono. In un secondo vi banno. Io non ammetto la nuova educazione. Però il discorso è questo. Io mi pongo un quesito. Vi faccio una riflessione. Allora. Ho già detto ad alcuni di voi. Nei primi video di questo nuovo canale nato sul finale di novembre. Dopo il 17 novembre. Quando ho subito dall'altro canale questo hackeraggio. E mi è stato cancellato. Arnaud adesso si concentra sull'acquisizione di nuove aziende. Soprattutto di moda italiane. Per ampliare le WMH. È colui che ultimamente ha ottenuto dei ricavi nettamente più alti. Il doppio. Il triplo della Fiat. Per fare un esempio. Guadagna in una maniera forse nata. È sempre uno degli uomini dei primi tre al mondo. Più ricchi al mondo. Mi sembra che adesso sia secondo addirittura. O terzo. Vabbè. Quello che è. È una strada. Perché la pandemia ha creato problemi nella moda. E lui sta facendo lo squalo. Asso. Piglia. Tutto. E si vuole ampliare. Bene. Però c'è una cosa che dessa sospetti. Come mai Gazzidis in questo momento in Dubai con il project manager nonché AD di praticamente Populus. Lo studio di architettura Populus americano. Il signor Christopher Lee. Esattamente il primo manager in director di Populus on Chiadi. Lo studio di architettura che si cooperava della progettazione del nuovo stadio di Milano ed era insieme a Gazzidis oggi anche ad Ahmed Al-Khatib. Shift Development and Delivery offris di Expo 2020 in Dubai. Per cui è quello che ha progettato l'Expo in Dubai. L'esposizione universale in Dubai. Per cui repiloghiamo. Il Milan unica squadra con una delegazione ufficiale col suo AD. Ivar Gazzidis e i nostri rappresentanti insieme a lui e il numero uno di Populus lo studio di architettura. Insieme a colui che ha creato Expo 2020 in Dubai. Lasciate stare e lo ripeto per l'esame volta Paris Saint Germain e Manchester City che loro sono già di proprietà degli cecchi e sono già lì con delle delegazioni. Ma noi siamo gli unici. Poi vi voglio ricordare che abbiamo come sponsor Emirates, Fly Emirates dal 2007. L'ultimo sponsor Siro, Wellness e tutto il resto collegato praticamente al mondo emiratino. Katariota con esattezza. E l'Official Hotel Partner e Gini. Questo Gini. Official Local Partner in Dubai. Ragazzi qualcosa sta portando verso quella direzione a mio modo di vedere come futura proprietà. Però con questo non vi sto dicendo niente. Non vi sto dando una certezza. Vi sto solo facendo una riflessione. È molto molto strano. Ok che il Milan vuole appoggiare l'Expo in Dubai. Vuole parlare dello stadio cattedrale che verrà fatto a Milano. Che vuole parlare di questo. Che vuole parlare di quello. Ma che vada in pompa magna con una delegazione ufficiale insieme al numero uno di Populus. Beh insomma sentite. Io vi dico la verità. La cosa comunque suona in un certo modo strana. Avete preso appunti giornalisti? Avete preso appunti? Giornalisti mi state guardando avete preso appunti? La cosa mi sembra molto 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 strana. Dico la verità che inizia ad accendersi un campanello. In realtà c'è una notizia che più avanti vi porterò che non è una notizia che risale ad oggi. Risale ancora prima di quando si mosse la voce su Arnaud che era interessato al Milan. Vedendo gli ultimi sviluppi post pandemia che molte cose sono cambiate c'è qualcosa che inizia a balenarmi nella testa. Soprattutto ci sono delle notizie appunto come vi dico che portano in questo senso. Perché ragazzi è troppo strano. Per me è troppo strano. Manchester City e Paris Saint Germain non sono andati ancora in pompa magna. Hanno delle delegazioni in Dubai. Ma che il Milan vada in pompa magna ok per sponsorizzarsi trovare altri sponsor, guadagnare soldi. Che Gazzidi sei bravo in questo. L'ho capito. Abbiamo già fatto un balzo in avanti. Chiudiamo questa stagione con 300 milioni di euro di fatturato. Però ragazzi dai. C'è qualcosa di strano c'è sotto. Soprattutto motronenemente mi inizia a sfiorare l'idea che lo stadio venga anche finanziato da qualche sceicco. Perché di sicuro se arriva al numero uno di Populous in Dubai, motronenemente c'è dietro anche il grano degli sceicchi. Come sponsor. Magari mette il nome allo stadio piuttosto che può essere anche quello. Però ragazzi. Qualcosa sta succedendo. Qualcosa sta succedendo. Vi mando un abbraccio. Io fossi stato Gazzidis. Fossi stato Gazzidis. Avrei portato i libri contabili dell'andamento del Milan. Di come stiamo migliorando a dismisura. Come dicono alcuni di voi criticoni lo scudetto del bilancio. Che ben venga. Per andare in mano a un potentissimo. Che ben venga lo scudetto del bilancio. Ragazzi. Poi chiudo. Vi saluto. Ovvio va da sé che se questo derby lo pareggiamo lo perdiamo. Il discorso scudetto è chiuso. Ma se vinciamo questo derby il discorso scudetto. Noi ci andiamo fino in fondo per lo scudetto. Ve lo ripeto. Perché con la Juventus abbiamo già giocato. Con la Roma abbiamo già giocato. Ci manca l'Inter. C'è anche l'Atalanta. Ho capito. Però ragazzi. Se noi vinciamo questo derby per lo scudetto andiamo fino in fondo. Vi mando un abbraccio. Forza Mila. Sempre. Comunque. Ovunque. Ciao.